Vuoi sapere il mio lato segreto al mondo? L'hai voluto tu Ok, non è quello il mio piano, ma vabbè, iniziamo Bello a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono No, sto facendo, non sono FabiJ Beh, signori, qualcuno di voi ha fatto Pasqua? Io no, invece Mi sento solo Comunque, arriva la notizia importantissima Perché Allora, allora, prima di tutto, il video non è andato molto bene Ma questa volta sono molto più attivo Molto E che stamattina Non ho fatto un cacchio Almeno sono molto più tranquillo Ah, sì, giusto Ringraziare a Foxy Viola, ovviamente, per avermi scomentato E anche la YouTube, perché non mi ricordo come si chiama In realtà si chiama Sorry Sì, si chiama così, non sto scherzando Ed è anche una fan numero uno Ultimamente sta facendo il mio video Sta commentando Il primo video è il primo fan in assoluto Perché non smetto di fare il tirrone Perché stamattina è arrivato un altro Perché stamattina ho ordinato un altro pacco Sempre con un prezzo così alto E per di più Una sorpresina importantissima Perché sta lanciando Il mio primo video Con Con un video E per essere in via No, scarci In realtà con il prezzo di via Non lo farò Perché c'è la maschera L'avete capito? Che non metterò la maschera E il motivo perché dopo questa maschera Per di Perché purtroppo Avrò dei propri sospetti E quando pare Nel mio canale Sta avendo Un colosso Totale E prima di iniziare questo video Iniziamo Dovrebbe esserci un'immagine Ma purtroppo non ce l'ho Avanti qualcosa perché Ma porca putta Cos'è? Ma adesso devo fare questo video E dunque Voglio vedervi Vi faccio vedere una cosa importante Intanto Grazie alla persona E non ricordo come si chiama Perché non ne so proprio Perché sto collegendo Con una maschera importante Vi faccio vedere una cosa importante Intanto il modellino che ho comprato Ma non può È tantissimo E l'ho comprato su Vinted Perché questa persona Si chiama Stick Pain Vabbè l'ho capito Però Ve lo Faccio vedere questa immagine Questa immagine qua E poi andate a cercarlo Perché questa persona Viene fatta le macchine Davvero Non sto scherzando Davvero bravo Davvero bravo Per di più Ah Deccato Fatta a mano Faccio vedere Ve lo faccio vedere immediatamente Ragazzi Tenetemi pronti Perché Bella proprio E sto vetto Mi sta odiando Faccio vedere Eccola qui Signori Signori Eccola qui Signori Signori Questa È la macchina È la macchina dei sogni Cioè Veramente È fatta bene Tra l'altro Inciso bene Del proprietario Ho anche inciso Anche Non sto scherzando E per di più E per di più C'è anche il numero Niente male Ma niente Non riesco a fissare la telecamera Vabbè Comunque Ragazzi È Perfetto È bellissimo Comunque Il proprietario È fatto bene Non lo so il nome Però Si chiama Maxi Ma Mi sembra Vabbè Io comunque Lascio il link In descrizione Di questa persona E vediamo se lo vuole E se qualcuno Lo vuole Io comunque Per essere preciso Per dare una piccola Ricordare una piccola Recensione Vi voglio dare Una notizia importante Quando è che Fai la face reveal Ragazzi Ve lo ripeto Arriviamo a 1000 iscritti E faccio questa face reveal Adesso non capisco Perché il mio salario Ha fatto 1000 iscritti Come chiamole Possibile Beh Beh Ragazzi Devo ancora fare un po' di video E siccome io ho un po' di lavoro da fare In officina Oltre a fare il mio lavoro Devo anche fare il mio youtuber Quindi diventerò pazzo fino a Non svenire Come ho fatto La recensione dei video Della Della macchina Farò questa recensione dei video E poi semmai Quando farò Qualcosina Tipo Chissà cosa Per poi Poi vediamo Appena arriva 1000 iscritti Poi avrò Poi mi chiedete Se voleva fare una live Magari per simpatia Magari per qualche video No Lo facevo fatta Le mie figlie E appena posso Recupero Le farò Anche a questi video Ma come ho detto Adesso La costetta A mettermi una maschera E tenermi questo viso Viso in faccia Adesso Forse magari qualcuno Non ve lo dirò Assolutamente Ma voi sapete La mia faccia Quindi Al mondo intero Non dovrebbe mai sapere Questa La mia vera Facevia E niente Signori E così Allora E vabbè Comunque Vi faccio vedere la macchina Se volete vedere questa macchina Ve lo lascio anche il link Di iscrizione E Gianni vi ha mandato un video Fantastico Dopo la guarderò A me se dite Io abbandono Vabbè Sentite Io Vi asso Il video Signore Io Direi che è tutto Ci vediamo al prossimo video Se il prossimo Se questo video Vi sia piaciuto Altrimenti Vengo lì Sempre la stessa cosa Ma stavolta Con il mio Non c'ho l'arma Perfetto No Cazze Attacolo Non c'ho l'armato Ma altrimenti Li blodizzo Col uomo Che come no E noi ci vedremo Al prossimo video Basta io ne faccio la E noi ci vedremo Al prossimo video Pum